Proseguono le indagini della Polizia di Stato di Sciacca sul decesso di un tossico dipendente del luogo di 47 anni con diversi precedenti. L'uomo sarebbe morto per overdose. Accanto al corpo infatti gli agenti hanno ritrovato una siringa. Il cadavere è stato rimenuto all'interno di un alloggio della Caritas parrocchiale di San Michele che era stato messo a disposizione dell'uomo giorni fa dal parroco Don Pasqualino Barone, il quale nelle scorse ore in assenza di notizie ha chiesto alla Polizia di intervenire. Gli agenti hanno così forzato l'ingresso trovando dentro l'appartamento il corpo senza vita. I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo accogliendo l'istanza avanzata dalla Prefettura di Agrigento che chiedeva un differimento del termine alla luce dello stato di emergenza sanitaria in atto hanno rinviato la discussione nell'ambito dell'interdittiva antimafia che ha colpito la società Idortecne controllata dalla società madre Girgentiacque che di fatto gestisce il servizio idrico in provincia di Agrigento. La vicenda scaturisce dal pronunciamento dell'ANAC che aveva archiviato l'esposto presentato contro le due società circa la possibilità che le stesse potessero svolgere lavori per lati senza eventuali gare d'appalto. Intanto proprio tra i lavoratori di Girgentiacque e Idortecne cresce il malumore nei confronti del lati. I lavoratori in sostanza vogliono chiarezza da parte dell'ente sul loro futuro lavorativo alla luce di quanto ha deliberato l'organo dei sindaci circa la nascita di un futuro nuovo gestore del servizio idrico. I dipendenti di Girgentiacque e soprattutto quelli di Idortecne vorrebbero dal lati un riconoscimento ufficiale del loro ruolo. Di fatto stanno gestendo il servizio idrico da tempo sotto la gestione commissariale che è sostanzialmente una gestione pubblica e lo rivendicano ancora di più ora che lo stanno facendo in tempo di coronavirus.